Non c'è inaugurazione che si rispetti senza il taglio del nastro e la benedizione e così anche la cerimonia di apertura del nuovissimo biodigestore all'interno dell'azienda Calabra Maceri di Rende è stata salutata con grande soddisfazione dal mondo politico e imprenditoriale. Si tratta di una bioraffineria capace di trattare la frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata e produrre il biometano. Solo applausi? Non proprio, come spesso accade se da un lato si gioisce per una nuova attività, c'è chi invece protesta. A pochi metri dall'impianto ecco i cittadini che abitano nella zona industriale di Rende, voci e cori contrari al biodigestore, in funzione già dal 28 agosto ma svelato soltanto in questi giorni. Manifestanti e ambientalisti lamentano la fuoriuscita di emissioni malodoranti dall'impianto. Quando c'era la legno chimica la puzza si sentiva fino all'inizio di sé, adesso si sente fino a tavolo, fino a 4 miglia, l'ombinazione non sa perché. L'azienda difende il proprio operato tentando di tranquillizzare l'opinione pubblica. L'impianto, dice Crescenzo Pellegrino, rispetto all'ambiente non è nocivo. Non è un impianto dove ci sono delle emissioni, ci sono soltanto un controllo delle emissioni d'origine perché trattando rifiuti organici è chiaro che ci sono i presidi per trattare l'aria di processo e l'aria di processo viene trattata appunto nei biofiltri che sono a servizio dell'impianto. Non è che qui l'impianto è fermo e quindi in questo momento non sentite puzza perché l'impianto è fermo. Anche oggi l'impianto ha lavorato a pieno regime circa 700 tonnellate di rifiuti eppure questo è il risultato che potete sentire pure voi. Il dibattito non finirà certo qui. Intanto l'impianto, quasi completamente made in Calabria e unico al centro-sud, funziona a pieno regime utilizzando la frazione organica raccolta sul territorio provinciale cosentino e producendo il metano che viene immesso direttamente nella rete SNAM. Questo è un impianto che ha regime e il regime si raggiungerà per la fine del prossimo mese di ottobre, produrrà una quantità di biometano pari a circa 500 metri cubi ora che sono bastevoli per appunto far andare 10.000 auto, far impieno a 10.000 macchine al giorno.